Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo, bellissimo, caldissimo video Oggi ragazzi siamo nella seconda finale, cioè il secondo finale che dobbiamo utilizzare di File in the Complex Dobbiamo suggerire questo penitenzione del merda, ecco guardate i titoli con la F nascosta E cominciamo subito a fare il primo episodio che abbiamo fatto In cui la ragazza risulta una eroina, la eroina quella ragazza supereroa, non la eroina quella droga Quindi play, ok Vabbè fin qua l'abbiamo vista che cosa succede, quindi possiamo pure strippare Ok questa è cosa che abbiamo fatto la stessa volta Ma c'è una cosa, una seconda opportunità Questo lo rifarrei ancora, sapete perché, guardate un attimo Lo rifaccio Guardate Ecco Mi rompo queste robe qua Ma c'ho l'opportunità, o di andare qua, o di andare qua Adesso vi faccio vedere una piccola cosa, io sposto un attimo la webcam Vedete, ciao Ecco mi sposto, vada C'è dito, Ellie will remember that Cioè Ellie si troverà di questa roba qua Quindi mi fa un po' pensare che potrebbe andare un finale un po' più diverso Quindi proviamo Perché adesso tutto quanto lo faccio da solo, guardate, tutto è cambiato Sprinter Pickpot, cioè Ah, li rubò qualcosa Non è questo Oddio quanto cazzo c'ha Ma sentite un altro, ma quanto cazzo ha fottuta roba c'ha lui Oddio Che cazzo c'ha nella tasta, fottuta roba Questa cazzo è il comando E ci cazzo sarebbe questa roba qua E lui? Ecco, mi sto fail Sprint No, questo potrebbe funzionare Si stanno andando la roba perché è sconeggiata, cazzarone Ecco, ho visto Vabbè, le cazzate funzionano sempre È logico, è logico Occhiamo Occhiamo Ok, dovevo dire Ok, vediamo Andate Powerjump Sprint Non c'ho Powerjump Powerjump Non ci credo ha funzionato Oddio Vai Oddio Andiamo con la tecnologia avanzata Quindi Andiamo stra Tanto questo Visto Calma, con calma, con calma E' visto Ecco Qui incontriamo tutta la gangster De merda Perché facciamo il bungee jumping Che è il sport estremo Che funziona sempre Ma che cazzo Di sport estremo Che è il tipo Della vita Ogni due per te Stira Se forse non è spot Cioè, vuoi dire Che palloncino ha funzionato Mentre lo sta gonfiando Non ci sa Roba Roba di un altro pianeta Quindi la tosse Punta Ok Non andro put Helio O balance Facciamo Facciamo Helio Che ti fa diventare un po' Certo Vediamo se funziona Ecco, ho visto La roba Rua Dell'Helio Che ti cambia pure la voce Pensate che ha funzionato Funzionato Sì Funzionato Proprio Dai andiamo avanti ora Ok Flip Bazzo No dai Un trucchetto tantissimo E' vecchissimo Mi prenderanno Basta Tozzi Della madonna Ma che cazzo Scusami cazzo Non ho preso Le carte Questo gioco E' pieno Di sorprese Facciamo Diff Oddio Cazzo Sono diventato Super Mario Ok Una vasta scelta Sto tenendo Proviamo Tutte e tre Così Per vedere Lo so Che secondo me La parte Ma perché Si accende Come se fosse Una macchina E' tra tutto Di brutto E' trai Spendiamo La santen Che cazzo E' questo Mi direi che Abbiamo finito Il gioco No Che cazzo era Ah c'era Un altro Vaffanculo Non lo so Ci avevo Creduto Allora ragazzi Abbiamo finito Il gioco Con questo O così Spero Quelli Come hanno fatto A non Notarmi Alla fine Come hanno fatto A non Notarmi Prima Ecco Abbiamo finito Il gioco Dove La seconda Ok Andiamo Andiamo Su menù Ragazzi Direi che Anche Secondo Episodio Potrebbe Finire Quindi Ringrazio Ah si Mettete like Commentate Come sempre Se avete I difetti Mettete like Non Mettete Dislike Senza Commentare Se no Non lo faccio Capire La storia Un po' Lunga Ci vediamo al prossimo video Bella a tutti Ciao